di giardinaggio. Allora, intanto prendiamo questa piantina, guarda, è sempre qualcosa di bambino, questa piantina che è una piantina, aspetta che lo dico, è una piantina di basilica, buonissima. Allora, voi dovete sapere che ultimamente dei grossi studi scientifici hanno dimostrato che le piante sono molto affettuose, hanno bisogno di affetto e sono molto sensibili, quindi sono anche suscettibili oltre ad essere sensibili. Di conseguenza dobbiamo saperle trattare, perché dopo che abbiamo saputo questo sono degli esseri, sono degli esseri che vivono. Ora, una cosa fondamentale per avere un rapporto dialettico con la pianta è di essere molto cortesi. Il primo elemento fondamentale che cos'è? La presentazione. Ora, come ci si presenta alla pianta? Ovviamente non è che noi possiamo dire, beh, ciao, io sono Carlotta, lei mi risponde, io sono Mary Lou. Cioè, io lo devo dire il mio nome, però la pianta mi dice, la pianta mi parla telepaticamente. Allora, noi dobbiamo imparare ad ascoltare le vibrazioni della pianta. Allora, proviamo, provate, mi raccomando, provate a casa, prendete una piantina che avete a casa e provate a toccarla. Allora, tu uno chiude gli occhi, tocca la piantina, fa così e gli dice il nome e la piantina risponde. E guardate che non è poi così difficile, perché infatti è più semplice riuscire a capire una pianta che un uomo, perché quante volte vi è capitato ad esempio che una persona vi parla, vi parla con la vostra stessa lingua e non capite assolutamente niente. Quindi almeno la piantina c'è la possibilità di poterci immaginare quello che noi vogliamo che possa dire. Invece l'uomo dice giallo e per forza deve essere giallo. Invece la piantina io la sento e poi trasformo. Quello che ha detto nelle mie idee, cioè no, sono nelle sue, però riesce a captarsi bene. Un'altra cosa importante della piantina, vedete come io la tengo, è riuscire a capire il sesso. Perché facciamo conto che la piantina è una pianta femmina e io sono un uomo maschio, beh mica posso dire, ehi ciao, devo riuscire ad essere più galante, più carino. Invece se la pianta è femmina e io sono un uomo femmina, beh a quel punto conosce anche la competizione e quindi bisogna comportarsi in modo diverso e poi così via. Un'altra cosa importante è riuscire a capire l'età. L'età è di estrema importanza perché bisogna rispettare la gerarchia cronologica e quindi bisogna guardare la pianta, guardatela bene e a secondo delle linee orizzontali e verticali che percorrono la foglia si riesce a capire l'età della pianta. Allora voi dovete moltiplicare, vedete queste, ci sono delle linee oblique nella foglia che sono ad esempio in questa foglia qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 per 2, 14 per 5 fa 70. Quindi questa pianta, questa qui ad esempio, ha 70 anni. Ora io ne ho un pochino di meno e quindi devo portare rispetto a questa pianta. Un'altra cosa dove bisogna essere molto suscettibili è che la pianta ha un grande senso estetico perché viene definita l'artista vegetale. In effetti voi sapete che dalle piante possono nascere i fiori e quindi i fiori che sono tutti colorati che hanno tutte queste sfumature che combinate insieme danno un senso estetico molto molto importante. Quindi quando noi ci presentiamo alla pianta non dobbiamo prima di tutto essere trasandati, cioè gli uomini devono andare ben rasati perché possono, la pianta si può molto arrabbiare. Le donne devono essere curate con i capelli, tutto quanto e poi soprattutto devono riuscire ad abbinare bene i colori perché altrimenti la pianta potrebbe arrabbiarsi. Ora che vi ho spiegato tutto questo della pianta, forse mi conviene che mi metto un pochino a cucinare perché altrimenti Ninetto quando arriva non trova assolutamente niente. Comunque ti do un bacino, pianta, pianta mia. Oh, ma che sta a fare? Ma scusa, non ho capito, ma di cosa stai a parlare con i miei piatti di basilico? Ti do un bacino. Ma qual è bacino? Ma dammi questa cosa, ma invece da stare lì. Non è, ti ho spiegato adesso la sensibilità delle piante. Ma ho capito, ma questa è una pianta del basilico. No, 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 tu sei un uomo, non lo puoi toccare? Questa è buona per su questa? No, Ninetto, no, fa così. Aguardo, dai una spicciata per favore, dai, dai. Ninetto, la sensibilità delle piante. Ma ho capito, che spiccia là su. Sapete che cosa succede? Che poi dopo Ninetto, come ha fatto l'altro giorno con la pittura, prende, prende la pianta e poi si mette ad accarezzarla lui, la pianta, e poi dopo dice a me. Vabbè, io allora vi saluto e ci vediamo domani. Un bacione a tutti. Ciao!